Dopo la fortunata edizione zero dell'anno scorso, nel Basso Feltrino verrà riproposta la festa del patrono di VAS San Leonardo, un appuntamento molto atteso dai cittadini che aveva visto in passato alcuni decenni di buio. L'iniziativa ritorna per opera dell'associazione La Carta in un luogo davvero particolare, La Cartiera di VAS. Tre giorni di festa che avranno inizio venerdì 3 novembre con un programma eterogeneo all'insegna della semplicità e della convivialità a parlarcene il presidente dell'associazione Ivan D'Altoè. Venerdì 3 novembre si esibiranno i Fat Lemurs, che sono un gruppo giovane di Feltrino. Per l'occasione proporremo un minestrone che è in collaborazione con la miniera di Scalò. Sabato la festa andrà di scena in Locanda Solagna. Alle 18 ci sarà un laboratorio di degustazione di caprini e bollicine presso la Locanda Solagna e a 19.30 ci sarà una cena gourmet di San Leonardo proposta da Andrea Riboni. Sempre sabato, ci spostiamo a Venezia, ci sarà l'inaugurazione di una mostra a carta picta a Venezia che parlerà proprio di VAS e che vedrà in scena 13 artisti che inaugureranno a Venezia, alla Scuola Internazionale di Grafica, una mostra tutta basata sulla carta prodotta a VAS con tematiche che riguardano la storia della cartiera e la storia del paese. Domenica, giornata clou, si aprirà al mattino alle 9 e mezza con la visita guidata alla cartiera e con il laboratorio di carta a mano e poi alle 12.30 il pranzo comunitario. Il pomeriggio, dalle 14, un laboratorio per bambini e adulti tenuto da Alessia De Franceschi e Monica Spinetta poi alle 16 ci sarà la castagnata e il vinovo. La festa si concluderà dalle 17.30 con l'aperitivo Apericena Latino con l'oca combinazione di Issam e Chiara e avremo le pizze per concludere la serata. Tutti questi eventi, in particolar modo il laboratorio per i bambini, la visita guidata e soprattutto i pranzi necessiteranno di prenotazione.